La certezza sull'identità del cadavere trovato in mare domenica sera da un pescatore all'altezza di località Sette Scogliere a Torre Annunziata arriverà solo dagli esiti degli esami sul DNA disposti sulla salma dalla procura Oplontina che sul caso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio volontario. Il corpo è stato rinvenuto con una corda legata al collo come se qualcuno avesse voluto farlo inabissare con l'ausilio di un masso. Le indagini dei carabinieri portano a un 46enne di Gragnano con precedenti per una rapina in un supermercato dell'area Stabiese scomparso proprio da domenica. L'identità sarebbe stata confermata anche dal tatuaggio su un polso dell'uomo che riporta due lettere M. L'autopsia non ancora fissata chiarirà poi le cause del decesso. Il corpo presentava ferite alla testa e alle braccia compatibili con una violenta colluttazione. Va chiarito anche se la vittima sia stata gettata in mare già morta o agonizzante. Resta un giallo anche il movente dell'omicidio per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di un tentativo di furto ai danni della persona sbagliata. Per depistare le indagini il 46enne sarebbe stato dunque picchiato e gettato in mare a torre annunziata.